Occhio all'Empoli che scende sulla sinistra, pallone dentro, Calulu miracoloso, toglie il pallone dal probabile vantaggio, comunque un grandissimo rischio per la Juve perché la palla dalla sinistra a la destra è tagliata benissimo in area di rigore, lato corto di sinistra, pallone a destra, a destra c'è un giocatore scoperto che arriva, probabilmente se lo perde cambiaso, che arriva in ritardo e Calulu fa una diagonale perfetta e salva, secondo me, letteralmente la Juve da un rischio clamoroso. L'Empoli, Francesco, ha segnato così a Polonia la settimana prima della pausa. Bravissimo, è vero, lo stavo pensando anch'io. Jassi era già arrivato sul pallone, poi dopo ovvio che da lì devi centrare la porta, però Calulu ha la velocità nelle corte. Occhio all'angolo, scusami Michele, corner dalla sinistra questa volta per l'Empoli, 12 minuti di gioco, bravissimo Calulu poco fa, cerchiamo di non fare la frittata adesso dopo il salvataggio. Pallone dentro, in area di rigore, lungo, palla su Ismaili, un po' troppo larga, occhio qui, ancora Colombo che si porta la palla sul sinistro, palla fuori, primo, anzi, secondo, tiro in porta del campionale. Finato contro la Juventus al diciannovesimo minuto, calcio da fuori, la protegge benissimo Perin, non c'era niente da rischiare qua, ma è una notizia perché comunque il secondo tiro in porta, verso Perin, tiro abbastanza centrale. Ancora Douglas Lewis, anzi Douglas Lewis, vedete voi, palla per Cobbeners, pallone dentro l'area di rigore, Gatti aveva saltato, aveva già creato il gol. Qua il miracolo del portiere che va a togliere il pallone da sotto l'incrocio, bravissimo Vasquez a togliere e a stoppare l'azione offensiva di Gatti. La palla qua era di Cobbeners, però forte ad uscire, bravissimo Gatti ad incornare contro sole, contro luce, verso l'incrocio. Era centrale sotto la traversa, ma bravo Vasquez a non farsi trovare disattento. Chissà tutti i dirigenti del Milan che stanno guardando adesso una partita. Cambio angolo, la batte Cobb, non più Douglas, pallone dentro di nuovo, va Bremer a saltare, la prende in nostro modo, ma il risultato è un altro, perché la palla finisce a campanile fuori dalla porta. Ancora Douglas Lewis, fallo su Calulu, brutto, ferma il gioco l'arbitro. Magari se è in ritardo e gli ha dato un pestone, si è sentito addirittura l'urlo in cuffia, ma lei va a chiedere subito scusa. Nessun cartellino, nessuna sanzione, si riparte subito con palla per cambiato. Che fa il quarto di sinistra, bene per Cobb. E viene sempre dentro al campo. Passissimo. Recupera la palla, col destro e poi si arriva l'urlo. Locatelli. Bravo Nico qua ad anticipare, far ripartire la Juve con il pallone in verticale per Dusan che può entrare di rigore e calciare di prima sul portiere. Sul portiere Dusan. Applaude tantissimo Nico Gonzalez perché la giocata qua di Nico era da Nico Gonzalez visto negli anni scorsi la Fiorentina. Qua Dusan continua a essere un po', un po' debole sul pallone dentro. Ancora la Juventus che prova a ributtarla ancora in area di rigore, dopo la raccontiamo meglio, recupera benissimo il disco in un controllo da favola. Poi viene trattenuto, ne salta due, non ce la fa, chiede falla all'arbitro, giustamente chiede come fatevo proseguire, recupera la palla l'Empoli. Ancora l'Empoli, occhio che va sulla destra, con Colombo, il dizio di lui. Bremer dove vai, con Bremer dove vai, palla dietro per Gatti, poi esce Perin. Raccontiamo l'azione di prima perché poco fa Nico Gonzalez ha saltato con spalle alla porta, ha stato due difensori del Fiorentina dell'Empoli, ha messo il pallone in verticale per Vlaovic che è arrivato dentro a la rigore, il portiere gli è uscito addosso. Lui non ha toccato sotto troppo in modo deciso, tocco di prima, è bravissimo Vasquez a fare la sua. Per adesso Vasquez sta salvando la partita dell'Empoli perché con questa è la seconda parata decisiva dopo quella su Gatti. Comunque sono d'accordo con te che la palla di Nico Gonzalez è clamorosa, fa molto una giocata. Gli fa cambiare tutto il voto di lato prima. E Vlaovic secondo voi se l'ha mangiato o poteva far meglio? La frenesia che anche in questo caso magari poteva piazzarla. Ecco Locatelli, bravissimo, anche qua con la finta da andare via, palla in verticale sulla sinistra per Cambiaso che può entrare nella rigore. Lo fa, pallone dentro, con Meners di tacco, salvateggio! Ancora Vasquez che salva sul gol, nell'unico tiro in porta di Con Meners, nell'unica volta che entrare di rigore. Bravissimo Vasquez a salvare ancora, ancora Juventus con Locatelli, lato corto di destra, vertice della rigore, palla scaricata per Calulu. A sua volta per Locatelli, di nuovo in quella zona di campo, ancora lì indietro, portiere dell'Empoli su gli scudi in questo momento con la terza parata decisiva che tiene l'Empoli a zero nella casella dei rietti subiti, la Juventus che meriterebbe a questo punto il vantaggio. Ma non riusciamo ancora a trasformare. Bremer, il Diz, Calulu, chiede palla a Locatelli sulla destra, ottimo il numero 5 della Juventus oggi, veramente ottimo. Ancora Manuel, sulla destra per Kopp, poco fa di esterno, ha messo la palla dentro la porta, è stato bravissimo a non farsi prendere in controtempo il portiere dell'Empoli. Occhio all'Empoli, Pellegri dalla tre quarti, può provare a tirare, allarga sulla sinistra per Giasi. In area di rigore l'Empoli, pallone dentro, un secondo pano, la prende Pezzella, poi dopo in qualche modo Kopp-Maners la mette fuori. Ancora Empoli sulla tre quarti di attacco. Logo i Cizze, Giasi, pallone dentro per Pellegri, di tacco! Oh, Perin, qua ha rischiato tantissimo la Juve, si è trovato il pallone, qua è sul dischetto il giocatore dell'Empoli che ha calciato male con la palla che è rimasta un po' sotto col sinistro. Questa era una grande occasione, abbiamo rischiato di prendere il gol a 20 minuti alla fine con un tiro per fortuna centrale da parte di Grassi. Siamo ridosso dell'inizio della nuova Champions League, martedì si giocherà contro il PSV, non facciamoci distrarre adesso nei minuti finali perché sarebbe clamoroso. Giasi, alle spalle a Cambiaso, ancora Giasi, 5 di recupero, sanzionati ora, decretati ora, occhio a Malek, calcia bene! Palla larga, Perin l'accompagna fuori, il tiro era a girare bene, forte e preciso, Perin l'accompagna, c'era il giocatore del portiere della Juventus, attacca con lui Pellegri sulla destra, occhio che arriva anche Giasi dalla destra, sono in 4, arriva anche Bangulla a chiudere, pallone dentro per Giasi! Mamma mia! Palla fuori, esce Perin sul finale, a un minuto alla fine l'Empoli andare vicinissimo alla rete del vantaggio, adesso io da qua non ho visto se è stato Perin a chiudere o meno, ma bellissima triangolazione tra E.Kong e Pellegri, poi Pellegri serve direttamente Giasi che era arrivato a rimorchio, mette il pallone dentro, preso in controtempo, e Gatti a chiudere in calcio d'angolo, grandissimo intervento di Gatti, c'era anche Perin, però Gatti qua va a chiudere e non si realizza per un o nulla il gol dello svantaggio, il gol dell'Empoli, proprio sul finire, finisce qua. Empoli-Juventus finisce 0-0, è il secondo di fila per la squadra di Tagomotta, un punto, si va a 8, ma adesso tocca alle altre giocare poi. E allora insomma a livello di risultato è un passo falso, diciamo una scivolata nella tabella di marcia della Juve che va a 8 punti in testa alla classifica, però è chiaro che devono ancora giocare le altre su tutte l'Inter che domani andrà a Monza e in caso di vittoria quindi scavalcherebbe la Juve. Anche il Napoli, perché ha 6 punti, certo, quindi il Napoli se vince, quindi insomma ci sono delle squadre che potrebbero o superare o avvicinare. Torino potrebbe clamorosamente trovarsi davanti alla Juve, lo stesso Milan, Rudy, se stasera vince va a meno 3 dalla Juve rispetto allo scenario che poteva essere. Drammatico. Drammatico. Drammatico.